E' verde Oggi nuova Oh si Questa è la mastermind Io qua ci ho fatto una kill da mastermind Una volta No questa è visto Stavo per Dio ho capito chi è Marco Stavo per Dio ho capito chi è Marco Sì Sì Ma sei morti tutti Che cosa vuoi Lory? Non c'è più nessuno su sta mappa di merda Ha chiuso a me chi è l'arancione Ha ucciso Che cazzo vuoi? Lascia rosa Lascia rosa Io do le testate sul tavolo Io giuro Io do le testate sul tavolo di merda Sì ma clipa quando lo fai Dio No cazzo Velenato Non è necessario Ah io sto a pista for schifo Oh I do crop Mi fanno male i bulbi oculari perché l'ho sparati fuori No salto troppo presto Io sono morto Anch'io Anch'io faccio vomitare però Faccio schifo più di tutti Faccio vomitare in questo gioco di merda Sta a 6 quell'altro già E me sta venire un'altra volta addosso Ok Marco Easy Suicide Easy suicide Ok Marco No Mi sono messo a gallere No Lo so Devo educarlo Se un giorno si sentirà Ce l'ha sempre Ce l'ha Ce l'ha sempre Oh no Oh god oh fuck Quanto mi sta sul cazzo sta pista Dopo le persone potrebbero imparli Solo alti puoi esegli Che cardi l'ora Forza era quello che avevo prima Non te puoi salvare Non ti puo Me lo salvà Come si è salvata Chi è il viola Marco Oh no il salvataggio è più fatto Mi è stato mollato Che un po' Mi sa che sia un coglione No Per ammazza l'ori E mei pure Rivolati su l'ori Almeno fa me lo ammazza La prima La riprendo Ho capito Ha fatto 2 kill E se ne è tolta una E comunque in positivo Se è suicidato Furte non dammela kill Se è suicidato Uff Arrivato A parole 2 l'ori Cotto 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 Cosa c'ha Questo Cosa c'ha Questo No Oh god No Marco mi Mi dispiace Non posso Dattena sui Saiyan così Sta un gioco Che suicida Come era Faccio l'asmer Cotto Cotto Corriccio Cotto Eh dai Una Sbaglio Dammi Ido croppo Ido croppo Ido croppo Ido croppo Ido croppo Ciapano Ciapano No No È fuori Mappa Dai Ci sto A 0 10 19 23 Sculacciato 8 Così Sono stato Rammato C'avevi Tutti Il turbo Vale Moda C'è Turbo Oggi Come funziona Io non ce l'ho Ho visto L'ho mai Imbazzato Allora Issi Issi Cosa Tanto so Carriera A quel momento E la partita Benmark È troppo Ecco Tararara 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 C'è che non sta bene Comunque Ma se le chiamano Solo Mi è anche volato Il pad Guardi ma Fra ancora È on Non dovrebbe Clipare Ma dopo Glielo dico E ci sono I momenti A clippare Glielo dico Dico Egli Guardarsi Tutta la partita Che giocavamo Testa mappa Qua E c'è Tanto Clip Material No Ci stavo Riuscito Porco Malevada Malevada Come ti è ucciso Confermo che comunque Marco la notte Fa un altro lavoro Adoxirre Vaffanculo Un attimino Al Marco Ti si buttava Andrò a sci A me Vai via Porco Guarda quanto piagno Guarda quanto piagno Io spacco il joystick No No Mentre faccio Il salto No Ero io Ero io No Sbaglio Che sei Immazzato Per immazzarmi Sto finocchio Obviously Porca Ma dopo No Mi sono chiuso Mi sono chiuso Mi sono chiuso Non è che mi è tolta Che come te sarvi Toxì Io devo capir Te guarda Marco Le spano Ci è subito Cri Che tanto La vetta Non dà Fittà Lo sta facendo Bastardo Madonna Si chiama Umorismo Cardi No 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 Tu lo fai A vero Una Ne faccio Una Ne faccio Perché Una Ne faccio Sono l'unico Nella mappa Merde Una Ne faccio No Toxir Perché Non togli sto Il culo Della Shield Oddio Devo tornare I tempi In cui Ti faccio Gio Alla Playstation Con Joystick Staccato Porco Allora Come non si è passato Del tuo ascianino Lora Farsi Bullizzati E comunque Cardi Non è che Lo bullizzati C'era 4 anni E faccio Giocare Senti Ma visto Car 4 anni Era un po' Difficile Che giocava Senti Ecco Perché Diventavo Cucido Colpa tua No E che Dopo Io Abbandonavo E stavo Sempre Con Sta a becca Sta a becca E perché C'era Poe kill Però sta a becca Marco Mo Erculo E la scia Se non vi Costa Da Marco Dipende Quanto me vuoi Beh Poi Guardi Mi su sci Era in diretta Quindi puoi scegli Niente No No L'attento L'attento Sto scherzato Sto scherzato Poverlo fidato Come non sei morto Dio Sei morto Te Sarai Per bellizione Sto salendo Te No Marco No Allora Allora Marco Sto scherzato Sto scherzo Il culo E la mia Quindi sulla scia 近 settimana E ho ucciso me Col culo Non sono Non è possibile E chi Siamo Che c'è marco che si fai fatto dimmi come si fa guarda dimmi come si fa guardarla chiaccia una volta il tasso share e poi fai quadrato eh non me lo sta a fa fa perchè sta a fa il coso no io non parto io devo guardar con la no non voglio fai servizio no non me l'ha fatto non lo so non c'è però non è uguale ma cioè la mia visuale era perfetta resti parti come al solio si ammazzate cari e se si perso agli andare a parte tutto parte stranza io non ho un ucciso non c'entra abba lo sento la voce sabo inizio è troppo regio lecce europee ora beh cazzo l'area forse sta con l'impero pure capa il tono le voci let's swing la 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 ciao lori volevi capire Marco sono arrivato comunque ah vabbè ah 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 l'ultimo lori niente sta partita deve essere video sta partita deve essere video e se muoio adesso c'è qualcosa se muori adesso contro il me c'è qualcosa di non muro contro il deserto si va a ammazzare no non si è manco ci va ammazzare foscritto no ma che sta a fa ok ah non viene a fai no come come se salvai tutti e due e te come non sei venuto il mezzo lo scemo io giravo all'altra parte guarda godo come uno scemo con tutti sti bella anche se non l'ho fatta io te ce l'ho spinto crei ringrazia me donando me sta kill grazie dai guardi sono trasceso ora c'è carmi un fire si ho un fire letteralmente tra poco mi do fuoco so solo sua mamma no ci sono io qui non ti abbandono cardi no 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 il portino è il portino è il portino è il portino è il portino no ma questa c'è sta questa c'è sta tanto adesso tra poco arrivo a quel momento però fammi vedere adesso come va e mi piace questa situazione attualmente la cazzo faccia non killare mai nessuno ma io lo arrivo a non so che cosa cazzo abbiamo ci siamo invitati a rinunciare tra me solo quando può spalla spalla con marco è morto lori questo gioco a quanto pare dice che se te fai spalla spalla con marco solo con marco te demori si 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 ci sono meno male cardi perché l'arri mi sta facendo il portino gogo collo battardo no no non è mattardo comunque a 9 forza di nel senso fidiamo a marco no non fidiamo a fidare a crisi dove fidare a qualcuno voglio che il cri venga fidato solo perché così almeno c'è un'altra gara porco idocrop idocrop oh è troppo letterale evidentemente porco dinda che mi arriva ho fatto tutti adesso che cazzo vai marco che puoi immazzarmi se vi butto no elo it's me no dai coglioni sei una merda no mi dispiace devo fidare ma che cazzo fa per l'altro coglione dai è arrivato palo deve essere pure arrivato quel momento no card sta arrivato clif voglio quel momento guarda guardi quanto mi fai schifo con ste suicide kill guardi io fiderei a marco solo perché mi fai scenderemo ecco c'è sempre un motivo per fidare a marco ma perché perché cristiano te sei alzerato sta mappa è una merda va un po' schifo te questa è chi ha creato la mappa asco e fa tutti due insieme per me è crea fra per livello di bastardaggine era mappa probabile chi c'è su no no la partita adesso è super tattica no grazie siamo in una fase tattica da partita non ha la gola per quanto ho urlato io spero vivamente che non ci sia nessuno a casa eh vabbè che cazzo dovevo fa mappa mappa cristiano a crispia non me la pezza non me la tolta si te l'ha tolta marco prima 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 la veloce è arrivato il momento 12 kill è solo il momento in cui arrivato il momento è di solo il momento in cui arrivato il momento ormai manco lo nomina qui il momento lo sai un'alleata guarda l'arri comunque con sto bella sei fastidio niente c'è c'è il turbo di arrasciato xeer non lo posso prendere non lo posso prendere e invece l'ho preso no dalla crispiango con la scia crispiango con la scia scia mortale che potevo ammazzare col turbo col turbo scusa no io dovevo passare qua no guardi come ti sei salvato ti sembra normale come ti sei salvato ma hai dato una rammata crei è finita la scia è finito e andrò la scia marco io pure no 8 ecce 9 toxir no per favore Ma c'è anche una cosa, Cardi, Marco c'ha il turbante, non c'è da più. Eh, ma io c'ho sto problema dell'analogico, mi sapevo che non è mio, c'è. Ma come cazzo fa, salvasse sempre! Ok, questo vorrebbe giocare al mio favore. No, Cardi, quanto fai sì? Perché mi aspetto e te aspetti un po' il suicidale, ecco. Pensavo di farcelo. Qua ci vuole un urlo del Sium. Eh, perché l'ho ri... URLO DEL Sium! URLO DEL Sium! URLO DEL Sium! Non è arrivato quel momento. Cioè che poi sta mappa è quella in metà più sul cazzo, l'unica mappa è dovemo farne tre, magari. Sium! URLO DEL Sium! URLO DEL Sium! Io ne ho vinto una o sono a zero? No, no, ne ho vinto una, vinto una. 31, Cardi, ne ho vinto una. Ok. No, poi vinci anche voi. Potrebbe arrivare quel momento reverse. Quel momento in cui Marco sta a 14 e Kri passa da 1 a 15 in pochi secondi. In quel caso non so perché, ma sospetterei che mi avresti pigiato. Sospetteremmo. Ma io mi porto avanti col lavoro, nel dubbio. Dai, se ti attaccavo il turbo, cara. No, no, Xirra 2. È finita. Xirra 2 finita. Oh! Xirra 3! No, Righi. Ti sento, ma. Non di niente. Why are here? Just to suffer. Eh, sì. No, anche dopo Lory ti dice, ma con chi stai a giocare per essere diventato così ritardato? Ah, nel senso lo sa che è colpa nostra se c'essi il turbo. No! Ah, che lo giochi che te volevo bambiore. Enighi. Ci eravamo buttato per bene, ti arraccuando. N puoi mutta ma senti. Ho io mangiarmi conjoni in Dio. veramente tardi e se moro non te la scia e se muore un messicidio te la menti te e dire che c'è un conto che provi a sopravvivere ma ti sei proprio buttato letteralmente vabbè marco e dopo come c'è la metta tutta scelto il sierante no o no non c'è bisogno ma lori perché sei molto più stretto è vero della volosità è passato stretto porco 2 gc tra l'altro mi senti davo che devo spontanea volontà che io ero passato stretto come star la sendiera è arrivato quel momento no no mi sta sculacciare lebronno mi sta sculacciare lebronno mi sta sculacciare a che punto è la mia vita su arrivavo mi fa sculacciare lebronno a punto brutto porco l'indosso faccio vomitare faccio quel profumo di next round 3 avevo il salto e poi ti ho ucciso this is all part of oratio great master plan no no nazzo quando sbatte per più la scelta rinconi toksir da te ve in difficoltà sì 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 loksir da te ve in difficoltà non te la puoi vacrimi tu puoi aver notato che ti ho provato a evitarla puoi aver notato che ti ho provato a evitarla non è vero che ti ho visto ieri no no volevo ammazzar toksir no no toksir ti piacerebbe no per chiudelo ero convinto e passavi stretto no marco non ho predictato bene eh cadi che fai ma dai eh toksir no ne step fa troppe this is this is part of my master plan this is part of my master plan legamenti no no sicuro non melevo le kill visto che ce l'ho cercare di vincere già ce l'ho poi oh jesus cristo no per cercare di tal credo stavo bravo te giuro no toksir no toksir parco minsto dalle kill a tutti no no marco vorresti il bis eh io volevo le fori il bis è il dole fuori sarò morto venti volte sta partita this is part of the great orazio master plan no no kree la regola è semplice sta distante da marco io sto a 9 marco stava a 9 ho provato appunto non c'ha senso ebbe sfidare uno con l'altro porco demonio allora guardi se hai capito fatto io sfido a tutti non è che perché marco è bravo allora non lo sfido sfido uguale ho capito dai mi sei venuo a fida ta non te so venuo a fida mi sei venuo a fida mi sei venuo a fida t'ho provato a fa col turbo eh toksir t'ho provato ci ho provato toksir come va affanculo card ti ho attua kill ringrazia oh questa ringrazia a me se pensi a fida o ridam nel senso guarda te l'ho andata perchè se marco mi hanno sbagli addosso a te un motivo c'è toksir sempre compare ah Marco te comunque fai qualcosa che non va o la moto che guarda te non può essere ok let's do this eh stavo bravo Dio stavo molto bravo oh 13-14 qua si fa la storia no pensavo a saltare pensavo a me a me faccia saltare la cosa oh la cardi che scappa oh non ce l'ho no 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 oh a sto punto no guardi questa me la devi infatti in realtà non so come infatti non mori te e mi sono suicidato sulla scia mia no eh si è mongoloi però o davo la kill a marco o mi suicidavo sulla scia mia il problema è che poi mi sono suicidato great choice this is great choice no ci è rimasto solo marco vista agli istante stai compromettendo le mie chance di vittoria io provo a vincere per me non hai provo a vincere per te non vinci non farai mai la kill su marco in quella maniera t'ho visto alla mappa ma non è io che faccio la kill su marco era marco che l'aveva chiuso a me riprendiamo una canzoncina e zeb ma buttati di sotto ma buttati di sotto no perché la prima volta ero passato sullo stretto gliel'avevo fatto a salvarmelo provo pure la seconda ma buttati di sotto l'ho chiuso l'ho chiuso cioè capito è quello il discorso che io almeno se te me chiusi sto bravo te la do non so in condizione puoi gliela dare adesso guarda cardi quanto me quanto fai schifo stavo capito che ti volevi buttare sotto stavo capito meglio sa che te credo sono scemo no non so voglio andare a kill io penso sta partita l'avevo vinto 8 ore fa se non mi incastravo sempre dei punti e pensa che piano mio era fiddata se ne fosse stato necessario ma io non voglio essere fiddato io voglio vincere io non voglio essere fiddato io voglio vincere onestamente che non succeda mai cosa che non succeda grazie a tutti